Samira El Attar è stata uccisa dentro la sua abitazione dal marito Mohamed Barbri tra le 10 del mattino e le 12 e 15 del 21 ottobre del 2019. La mamma marocchina, svanita nel nulla da ormai due anni e mezzo, è stata ammazzata perché 40 giorni prima del delitto aveva dato due schiaffi al marito in mezzo alla piazza del paese, proprio davanti al comune. Un affronto che l'uomo non ha accettato e che ha ulteriormente fomentato la sua morbosa gelosia. Queste le origini del delitto secondo le motivazioni della sentenza di primo grado emessa dai giudici della Corte che hanno condannato Barbri all'ergastro lo scorso 18 giugno per omicidio e occultamento di cadavere. Il colpo della povera Samira infatti non è mai stato ritrovato. Nelle 86 pagine di motivazioni in cui si ricostruisce grazie a intercedazioni, testimonianze e spostamenti rilevati dal GPS sono definiti i momenti prima del delitto. Samira è stata vista per l'ultima volta da una vicina verso le 10 dopo aver accompagnato la figlia a scuola. A mezzogiorno il suo cellulare si spegne e in quell'arco temporale è sempre rimasto agganciato alla cella della sua abitazione e quindi si esclude che la donna possa essere uscita per andare a quel fantomatico colloquio di lavoro sempre dichiarato da Mohamed. L'uomo è invece stato visto in casa proprio verso mezzogiorno da una vicina mentre usciva per andare a prendere la figlia all'asilo. Samira potrebbe essere stata strangolata in queste due ore perché all'interno dell'appartamento i ris non hanno rilevato tracce di sangue. Mohamed denunciò la scomparsa della moglie solo il giorno dopo e nei giorni seguenti fece ritrovare oggetti di Samira sparsi nei campi di Stanghella. Oltre alla condanna all'ergastolo i giudici hanno tolto all'uomo la patria potestà e lo hanno obbligato al ristoro di 400.000 euro alla famiglia e la TAR.